Ciao, oggi volevo parlarvi di questo software che si chiama NVIDIA Canvas che è uno strumento per disegnare sfondi fotografici di tipo naturalistico che è disponibile per chi ha una scheda video NVIDIA. I requisiti di sistema sono questi, quindi serve avere una scheda video di qualità NVIDIA quindi non è per qualsiasi computer, però appunto nel caso voi abbiate questa scheda il software è gratuito, si può scaricare qui premendo scarica la beta e poi premendo di nuovo il tasto scarica la beta, è appunto ancora in beta anche se ha versione 1.4 permette appunto di generare dei paesaggi e anche dei panorami che ha una funzione nuova. Quando lo si apre si può scegliere se creare un disegno standard, diciamo, oppure una modalità panorama. Allora, cominciando con quello standard, questo è il funzionamento del programma c'ha due sezioni, quella a sinistra e quella in cui disegniamo e forniamo uno schema generale di quello che vogliamo e a destra c'è il risultato che otteniamo. In questo momento c'è un cielo notturno perché abbiamo riempito la parte a sinistra solo di cielo e infatti il pennello adesso, per esempio, è selezionato su cloud e potremo disegnarci delle nuvole. Quindi con il pennello qui, questo cerchietto è il nostro pennello possiamo fare dei disegni e qui appaiono delle nuvole che cercano di simulare, diciamo, quello che abbiamo a sinistra. Con questo possiamo ingrandire il pennello e ottenere delle forme più grandi oppure più piccole e qui a sinistra otteniamo un risultato simile a quello che cerchiamo di fare. Cioè è possibile cambiare con delle variazioni il risultato, diciamo, quindi è come se utilizzasse degli algoritmi delle fotografie di partenza fondamentalmente diverse. Quindi per questa singola fotografia possono esserci varie variazioni, per quest'altra ce n'è altre e così via. Quindi qui è abbastanza facile da usare. Anche se io decido e cambio questa variazione, sono sempre libero di ricominciare a disegnare. Quindi per esempio potrei prendere del mare, qua, sì, e in questo caso invece del pennello normale potrei usare la linea e tracciare una linea diritta qui, ottenendo una riga di mare. Ovviamente in qualche modo ha capito che deve essere mare anche tutto sotto perché è un po' strano che sia cielo, però per sicurezza possiamo usare il tasto riempi e cliccare e riempire tutto questo di mare. Quindi vedete, adesso questo è tutto mare. Posso cambiare appunto stile di fotografia, però ho un cielo, le nuvole più o meno dove gli ho chiesto e il mare. Ci sono tante altre cose tra i pennelli, per cui vediamoli un attimo. Ci sono il cielo, che è quello a iniziare, le nuvole, queste sono colline, montagne, acqua, un po' generico, fango, nebbia, neve, fiume, fiori, erba, fili d'erba, cespugli, foresta, pietre, sabbia, ghiaia, terreno, diciamo terra e questo che sono muretti in pietra. Quindi per esempio potrei prendere sabbia col pennello e tra l'altro posso fare anche dei layer. Quindi qui ho il mare, potrei fare un nuovo layer, quindi sopra all'immagine, ingrandisco il pennello e disegno una zona così e la riempio tutta quanta di sabbia. e quindi vedete qua è uscita una spiaggia che ovviamente appunto può avere tante variazioni. Magari io comincio inizialmente cercando una variazione di quelle con la luce abbastanza neutra per capire cosa sta succedendo, ecco, tipo questa. Quindi qui ho la sabbia, potrei aggiungere appunto delle altre zone, quindi è del tutto lasciato ovviamente alla fantasia di quello che vi serve. Beh, quindi vedete aggiungendo qui del fango ne ha aggiunto, posso avere delle montagne sullo sfondo, magari le faccio in un altro layer ancora e aggiungo qua sullo sfondo una montagna, un'altra. Sono un po' dentro l'acqua, quindi posso prendere di nuovo la linea, prendere di nuovo il mare e traccio una linea così ed ecco che sono finite diciamo in fondo. Se disattivo il layer, scompagno le montagne, posso disattivare la spiaggia, quindi adesso prendo collina con un pennello un po' più grande e faccio ancora, faccio sempre su questo layer. Qui ovviamente ho del mare e quindi non posso, ecco, mi metto qui, faccio questa zona dove ho selezionato collina e magari dovrei avere pietra da qualche parte, eccole qua, stone. E quindi vedete che in questo modo ha creato una parete rocciosa diciamo. Si tratta anche di divertirsi. La particolarità è che si può aggiungere anche delle proprie foto, quindi per esempio questa è una mia fotografia che ho aggiunto e quindi questi stili sono ottenuti a partire da una mia fotografia. Come si fa? Bisogna selezionare new style, clicco browse e prendo questa foto, ad esempio, faccio apri, aggiungi e adesso avrò a disposizione questo nuovo stile basato sulla mia fotografia. Non so bene dirvi in che modo utilizzi la fotografia e le informazioni che ci sono dentro, però come vedete ho delle variazioni di tipo diverso, quindi anche personalizzabili diciamo. Infatti per esempio qua non vedo nessuna variante diciamo notturna che nella mia foto non c'era. Questa immagine può essere salvata. Se noi usiamo il tasto salva normale, quindi questo per esempio la chiamo tutorial 3, visto che ce n'era un altro paio, faccio salva. Questo è il formato suo di Nvidia Canvas per riaprirla qua ed eventualmente modificarla. Appunto ricordate possiamo mettere e togliere cose. Questo invece è un esporta e potete scegliere vari formati, in particolare per esempio posso scegliere PNG se voglio l'immagine in un formato più standard, faccio salva. E ora nella mia cartella ho tutorial 3 che è un file PNG, è piccolino, è di dimensioni di 1024x1024. Potrei ingrandirlo con degli strumenti AI. Questo ad esempio è un ingrandimento 4x ottenuto con Topaz Gigapixel, potete provare anche con Stable Diffusion che è gratis, è un ingrandimento 4x in cui vengono inventati diciamo un po' di dettagli. Certo non è come una effettiva fotografia, però magari come base per un disegno sicuramente anche i 1024x iniziali possono bastare. Una funzione interessante è poter creare un panorama e questa è un po' nuova in questo programma. panorama è un'immagine che come possiamo vedere qua nell'anteprima a destra è tridimensionale diciamo. Quindi questa qui che vedete è rettangolare viene proiettata sulla sfera, la sfera è quella che vedete appunto rappresentata da queste latitudini e longitudini e quindi possiamo creare un intero panorama che poi in molti software 3D può essere utilizzato anche per illuminare la scena. Per esempio lo troviamo già riempito con cielo ed erba. Adesso prendo per esempio snow e creo invece una riga di neve e poi riempio la parte sottostante di neve e vedete è già diventato così. Prendo la nebbia un po' più sottile e aggiungo quest'altra riga e quindi adesso ho messo della nebbia in fondo l'aumento ancora e magari dipingo un po' col pennello. Attenzione che ovviamente nelle parti laterali dovete immaginare che questo lato vada a ricucirsi qui a sinistra quindi è meglio che non ci siano differenze molto grosse quindi se faccio qualcosa qui lo devo fare anche là per quello è meglio in effetti disegnare nel mezzo di solito. Creo un altro layer magari qua giù creo una montagna. Tenete anche conto che la parte più bassa e la parte più alta sono quelle che diventano proprio la parte finale del cerchio qua sotto quindi è meglio non disegnare diciamo perché saranno proprio questa parte qua i poli che sarà poco visibile diciamo. Quindi come vedete questo mi permette di disegnare delle montagne con delle forme esattamente quelle che voglio io quindi posso creare per esempio se ho un fantasy la necessità di creare delle forme molto particolari ho a disposizione la gomma che avendo lavorato su un layer soprastante posso andare a cancellare anche quello che ho già disegnato e quindi creare delle strutture che poi vengono trasformate in risultati diciamo realistici in questo modo. Adesso faccio un altro layer ancora terra con un pennello piccolo vediamo lo preparo su un layer a parte ecco. ora possiamo anche provare le altre varianti qui effettivamente c'è qualcosa che non va non l'ha realizzata molto bene questa montagna probabilmente è meglio non essere troppo troppo dettagliati perché alla fin fine cerca di partire anche da fotografie esistenti diciamo e quindi se si fa delle cose un po' troppo strane i risultati potrebbero essere non esattamente carini ecco adesso se questo risultato può soddisfarmi posso provare le varie appunto alternative e vedere che tipo di disegno ottengo con delle alternative quando sono soddisfatto allora come al solito posso salvare nel formato di Nvidia Canvas e posso anche esportarlo e in questo caso il formato di esportazione è meglio che sia EXR che è un appunto il formato di esportazione per per questo tipo di immagini diciamo allora lo salvo come panorama come vedete Windows me la mostra come un'icona diciamo neutra poi dipende da che programmi avete installato voi però diciamo che questo formato EXR se lo apro in un programma di grafica come ad esempio Krita come vedete può apparire diverso perché ha una gamma dinamica molto ampia non è proprio una vera immagine HDR però diciamo che è fatta perché venga messa nei software 3D la apro in un software di fotoritocco professionale per esempio come Affinity posso scoprire che questo che sembra tutto bianco in realtà contiene delle informazioni se vado nel menu filtri e scendo ombreggiature luci e abbasso l'intensità delle luci scopro che ci sono molti dettagli vedete che erano prima mangiati dal bianco infatti posso anche ecco vedete posso scoprire che il punto più bianco circa è qui dove ci sarebbe il sole e quindi come se avessi ancora a disposizione la macchina fotografica che ha scattato la foto posso decidere diciamo di regolare l'intensità della luminosità questo in un programma di fotoritocco appunto mi permette di eventualmente cambiare l'esposizione però in realtà è utile nei programmi 3D perché fornisce l'illuminazione per esempio ho questa piccola scena in blender ho messo questa sfera solo per vedere appunto i riflessi vedete adesso sta riflettendo quella mappa che viene scelta qui e che ovviamente posso cambiare queste sono fornite con blender però non è quello che mi interessa adesso quello che mi interessa adesso è metterla proprio come sfondo della scena quindi vado nella sezione di shading e devo scegliere world farò un video apposta per gli abbonati in cui discuto come utilizzare queste immagini in blender e in unreal engine perché l'argomento è piuttosto complesso però velocemente per vederlo alla svelta prendo la mia immagine in formato EXR uscita da nvidia canvas la trascino qui devo cambiare questo nodo in un tipo di nodo environment e lo collego allo sfondo ora lo sfondo contiene la mia immagine quindi se torno qui e vado in modalità renderizzata ecco che vedo che utilizzo la mia immagine sullo sfondo adesso ovviamente la montagna davanti è molto grande e quindi non si nota però questa è l'immagine che ho generato di là e che è qui la risoluzione non è molto alta per poterla diciamo utilizzare come sfondo fotorealistico però per i riflessi è più che sufficiente per vederla riflessa sugli oggetti di scena e in più come vedete anche la luce della scena viene presa da quell'immagine finché sono in EV avrò questa luce diciamo generale ma non ho il sole se vado in cycles questa illuminazione viene usata anche per generare le ombre e quindi anche se vado per esempio ad aumentare l'intensità del panorama come vedete la luce è sempre più forte e quindi i bianchi diventano sempre più bianchi però è tutto realizzato in maniera realistica se metto ecco 0.5 per esempio senza esagerare ho lo sfondo che desideravo quindi in cycles avete a disposizione proprio anche l'illuminazione fornita da questo da questa immagine e potete appunto regolarvi lasciandola a 1 è piuttosto luminosa però si può abbassare perché appunto è un'immagine a gamma dinamica abbastanza ampia da poter essere variata se siete in EV c'è la possibilità di aggiungere un sole a mano e bisogna andare a farlo coincidere con il punto dal quale arriva la luce nella nostra scena che quindi magari è quella lassù c'è un add-on che ci aiuta a farlo che è tra quelli forniti in blender anche questo lo vedo magari meglio nel nel video per i soli iscritti comunque c'è questo add-on sun position che una volta attivato nel menu world ci permette scegliendo sun più hdr texture e scegliendo qual è il nostro oggetto del sole ci permette di andare a sincronizzare il sole con la texture in questo modo clicco e mi appare sulla scena la mia texture posso cambiare l'intensità e se trovo il sole qui ci clicco sopra e adesso blender ha posizionato il sole esattamente in corrispondenza e tra l'altro quando ruoto questo valore come vedete ruota sia lo si vede qui nell'ombra il sole magari possiamo aumentare l'intensità ecco se facciamo intensità 5 adesso vedete ruotandolo con questa rotation ruota contemporaneamente lo sfondo e il sole in modo tale che la luce sia sempre corrispondente ne ho fatte altre sempre con nvidia canvas come questa ad esempio questo è blender questo invece è unreal engine e ho caricato la stessa immagine in unreal engine eccola qua e tra l'altro in unreal engine viene caricata non su una sfera ma su un dome con un pavimento e quindi appunto riesco a vederla diciamo in maniera più naturale si può fare anche in blender anche questo lo vediamo nel video apposta per gli abbonati come vedete in unreal engine tra l'altro appunto fornisce l'illuminazione perché possiamo vedere che il colore della scena è anche dato dalla texture in questione e funziona bene il riconoscimento automatico dell'esposizione che ovviamente si può anche disabilitare per cui quando inquadro una scena molto luminosa l'esposizione si abbassa quando mi sposto l'esposizione si alza di nuovo e torna a permettermi di vedere i dettagli l'uso di queste immagini è molto interessante all'interno dei software 3D perché ci permette di creare uno sfondo quasi fotorealistico un altro programma che accetta questo tipo di immagini è clip studio paint bisogna creare un apposito layer di tipo 3D quindi con tasto destro new layer creare un layer 3D e layer 3D può avere uno sfondo panorama e qui tra le opzioni panorama c'è qua la possibilità di caricare un file che è quello appunto creato da nvidia canvas però non capisce il formato e xr quindi in questo caso da nvidia canvas quando faccio esporta posso scegliere png e andare quindi a creare il panorama panorama in versione png adesso nella cartella ho anche panorama png che può essere compreso da clip studio e quindi posso premere file e andare a prendere panorama png fare apri ed eccolo qua potete spostarvi muovere il tasto sinistro e vedete che c'è anche un piano in basso per aiutarvi a capire dove siete e si può anche andare a regolare in questo modo diciamo lo zoom la quantità di fisheye e possiamo andare a posizionarlo quindi dietro la nostra illustrazione una volta che è posizionato basta diciamo spostarsi di nuovo su un altro layer e si può tranquillamente disegnare e utilizzare il layer di riferimento sotto comunque insomma è un layer come tanti altri con i quali possiamo colorare e c'è a disposizione anche il righello della prospettiva si tratta di imparare a utilizzare Clip Studio Paint però per dire che queste immagini tridimensionali possono essere usate in diversi programmi come detto creerò un video per i soli abbonati per parlare di come fare queste cose al meglio in Blender e in Unreal Engine se non siete abbonati e siete curiosi ci sono tutte le informazioni nella home del canale qui spiego quali sono i livelli ci sono due livelli e i video appunto speciali sono riservati a chi si abbona a livello supporter da 9,99 si può fare tramite il tasto iscriviti qua in alto è una cosa nuova che offre YouTube e che permette di dare ai creatori come me un aiuto per poter creare sempre di più nuovi contenuti grazie e alla prossima grazie a tutti